LESLIE! Credo che la camomilla sia pronta! Pini a birra! È buona? Un po' strana... Vabbè... Fagli male! Lasciatelo in pace! E tu? Che cazzo guardi un brutto frocio? Lasciatelo subito! Grazie, mi hai salvato la vita! Lo so, sembra incredibile pure a me! Ma come hai fatto? Non lo so, ma forse è stata quella tisana! Mi sembrava che ho un retrogusto diverso! Ma che tisana? Doveva esserci dentro qualcosa! Io mi sento più forte! Ne abbiamo già parlato tante volte, Leslie! Non sei un supereroe! Magari... Leslie no! Ma Leslie sì! Siamo stati interrotti da una specie di supereroe! Sì! Quello nesco! La cosa sembra interessante! Voglio che lo proviate! Usate ogni mezzo necessario! Ma che diavolo c'è successo? Che cosa è successo al sogno americano? L'indirizzo è questo, giusto? Ecco perché ora... Farai la stessa fine! Che cos'è successo al sogno americano? E si è aperato! Lo stiamo ammirando! Lo stiamo ammirando! Lo stiamo ammirando! Lo stiamo ammirando! Tutto qui? No! Allora! Grazie a tutti.